Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti nell'aggiornamento ormai consueto di maggio Oggi è un video veramente carico perché abbiamo un sacco di cose da dirvi, un sacco di prodotti da consigliarvi E aggiornamenti sulla situazione di schede video e processori veramente figli Ma non solo questo, perché il mese prossimo, quindi tra un paio di giorni alla fine della fiera Sarà un mese molto particolare perché non solo ci saranno tutti gli eventi legati al Computex Quindi molto probabilmente il mese inizierà con alcune live da parte nostra Che seguiremo i vari eventi Nvidia, Intel, AMD quando ci saranno Poi ve lo comunicheremo tramite i vari social Ma ci sarà anche il uno dei main event dell'anno per quanto riguarda gli sconti Esatto, che è il Prime Day Perché ne parliamo in un video del genere? Perché è importante? È inutile stare qua a parlarne della situazione di reperibilità a componenti e quale pezzo scegliere Se poi fate mancare il Prime Day Non è che è obbligatorio il Prime Day, però è una situazione dove i magazzini non sono esageratamente pieni No, per niente proprio Un evento di questo tipo con scontistiche interessanti Che come quello di ottobre e novembre con il Black Friday C'è stata la combo proprio devastante Va a distruggere gli stock di Amazon e comunque dei principali Perché poi ovviamente anche le altre store, dato che Amazon fa il Prime Day A cavallo si inventano Lo fanno sempre Si inventano il Prime qualcosa In Black Friday, estivo, robe del genere Come fa Mediore Ognuno ha la sua e lo chiama come vuole Però di fatto viene fatto Che poi a fine giugno, dopo gli eventi, dopo questi eventi E con rifornimenti di luglio Dubbi, perché non so quanto ci possono essere Ci possa essere veramente poco Quindi state veramente sul pezzo in questo video e nelle prossime settimane Perché se dovete comprare un PC per lavoro, per giocare, per fare qualcosa Ecco, situazione abbastanza critica E per seguire l'evento al meglio, come al solito Ci sono i canali qua sotto in descrizione Che facce fa? Ma prima di andare avanti col video, ragazzi Questo video in particolare è sponsorizzato, incredibile ma vero Da NordVPN Per la prima volta nella vita possiamo dire di essere sponsorizzati da NordVPN Incredibile La VPN è un servizio che serve a crittografare il traffico internet Per navigare in tutta sicurezza Indipendentemente dalla rete a cui siete connessi Per capirci, potete guardarvi un bel podcast in santa pace Eh? Cringelo Un po' sì Belli, protetti e crittografati anche con il wifi libero della stazione centrale o in aeroporto Rimanendo completamente anonimi NordVPN offre anche una protezione anti-malware e anti-phishing Per rimanere sicuri su qualsiasi sito Ovviamente potete ufufruire del servizio sulla stagione maggioranza dei dispositivi Windows, Linux, Mac, ma anche Android e iOS E un paio di estensioni per Chrome e Firefox Potete anche registrare quanti dispositivi volete Ed usare NordVPN su sei dispositivi contemporaneamente Per proteggere i vostri device anche in famiglia Ovviamente una delle grandi figate della VPN è che potete accedere anche ai servizi di streaming degli altri paesi Questo è abbastanza chiaro, no? Come la Juve Un po' sì Ad esempio seguire una serie tv su Netflix o Prime che in Italia non c'è ancora E farvi tre anni di live gold ad un terzo del prezzo comprando la key in Brasile Mai fatto Mai fatto Mai fatto Qui nessuno fa cose di questo tipo Non solo a serie tv o film infatti Perché lo stesso discorso vale anche per i giochi O alcuni particolari sconti disponibili all'estero e non in Italia appunto Impostare NordVPN sul paese che volete e attivate la connessione Qui in testa alla descrizione trovate il link per accedere alla promozione sul piano biennale E con il nostro codice sconto che è già inserito tramite il link che cliccate VPN Geek Accedete a un ulteriore sconto e a un ulteriore mese aggiuntivo sul piano biennale Gratuito Se non siete contenti però avete 30 giorni per restituire il servizio Quindi ragazzi fateci un salto e fateci sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti Ma torniamo al video Ragazzi partiamo con le buone notizie o con le cattive? Ma come al solito con le cattive No partiamo con le buone Sono dei segnali di ripresa soprattutto su alcuni articoli Alimentatori ad esempio spesso vanno in sconto E ci sono gli FSP Hydro che sono ottima, un'ottima serie Veramente abbastanza economica Esatto Poco sopra i 50 euro Che si può portare a casa per un ottimo alimentatore Ve lo lasciamo qua in descrizione Secondo me è proprio una bomba Se dovete iniziare a fare una configurazione ovviamente non high end Ma una roba comunque budget E vi permette di portare a casa un buon prodotto a un prezzo basso Tra l'altro questo mese in tanti siete riusciti a recuperarlo Forse è andato in offerta in qualche occasione Il modello da 600 watt Quindi potete trovarlo Sta sulla cinquantina di euro all'incirca Forse qualcosina di più A seconda del momento Quindi dateci un occhio Ve lo lasciamo qua sotto in descrizione E qua vi sistemate comunque un alimentatore Senza spendere Che è un po' la parte più noiosa Sì senza andare a spendere un cifrone Come hai detto la parte delicata Perché è un componente molto importante Che molti sottovalutano Esatto E quindi il primo che trovi No Meglio prendere un prodotto valido Senza spendere tanto come questo Piuttosto che comprare il primo che passa Seconda cosa ragazzi I dissipatori Arctic come al solito Con il dissipatore liquido Con l'economico Che non è più economico Perché lo vogliono tutti Diventato pensuato Quello liquido sì Il freezer È uscito anche la versione RGB tra l'altro Però invece c'è RGB Quello ad aria Che è un buon prodotto Che sta sotto i 50 euro Sì 45 C Un buon prezzo Che veramente è un ottimo dissipatore Ovviamente esteticamente Ci sta RGB È un doppiatore È un doppiatore Normalissimo Secondo me ragazzi Valutatelo Soprattutto se non avete voglia Di fare la build super estetica Perché a quel prezzo Vi portate a casa Una cosa che fa A tenere veramente Tranquillo il vostro Il vostro processore Però ci sono sempre ovviamente Gli Arctic A liquido Che sono secondo me La cosa più bella Stiamo registrando Un aumento di prezzo Degli IO medio Infatti anche quelli Che abbiamo recensito Il MSI Purtroppo sì Stiamo arrivando anche sopra I 150 euro Tranquille Arrivando anche i 200 Per IO da 360 O 240 Secondo me Roba fuori Ma a man di dio Tipo le MSI Che abbiamo recensito Che abbiamo visto L'altra volta Nella build Belli Alcuni Troppo cari Quindi il punto Sui dissipatori È comprate Noctua Che andate sempre sul sicuro Su Calitano del Fred C'era il D15 In sconto Secondo me Se trovate il Noctua Ovviamente la versione Quella nera Perché è molto più bella Ma anche se trovate Quello normale Va benissimo Gli cambiate le ventole poi Quello normale No prendete la versione nera Che è molto più figa Io ho la versione nera Fighissima Ragazzi Per cui 10 euro di differenza Ragazzi quello è proprio Un god tier Cioè proprio Cioè è meglio Di dissipatori Cioè veramente Poi se volete fare La build estetica Va bene Ma la funzionalità Quello è un god tier Non lo toglie nessuno Deve uscire quello Senza Quello fanless Ma quello non lo attendo Per niente Perché sarà la solita Cagata Per quelli che odiano il rumore Noctua non fa cagate No è vero Bravo Questa è la mentalità giusta Io non sono un fanboy Però è un'azienda Che lavora bene Cioè nessuno credo Possa discutere noctua Dai arriviamo alle buone notizie Quelle vere Allora In realtà per le schede madri Non ci sono grandi notizie Quindi faremo un sunto Per dire che Si sta sestando ancora La situazione dall'uscita Si sta sestando La situazione Per le Z590 Quindi Quello Da quel punto di vista lì I prezzi stanno ancora Tendendo al ribasso Anche se è stata accolta Un po' in maniera tiepida La generazione L'ultima generazione Intel Nonostante sia valida Più che altro Perché c'è E più che altro Perché i prezzi Non sono partiti Per la fascia bassa È ottima Per la fascia alta Che non ci sta Per la fascia alta Purtroppo non ci sta Però schede madri In generale Ci sono state tante Occasioni Tante offerte Per i chipset Di fascia media AMD In questo caso Mentre quelle Intel Si stanno pian piano Abbassando a sestando Adesso si può trovare In questo momento In questo momento In questo momento in cui registriamo C'è Addirittura Su BPM Power Un 5600 a 280 euro 278 euro 275 Una roba del genere Si trova anche su Amazon Sui 310 300 in giro Per il web Quindi prezzo notevolmente Più basso Rispetto Fino a quando lo pagavi 400 euro Proprio non valeva la pena E per la fascia bassa L'11400F Anche lì Sempre sotto I 200 200 intorno E l'11600K 220 su BPM E i 260 250 in giro Sì esatto Anche su Amazon Sta ricomparendo Una fascia media Nei processori Sta ricomparendo La fascia bassa Non c'è ancora No Nonostante tanti di voi Abbiano comprato Non so per quale motivo Ancora i 10.000 Della fascia i3 A prezzi senza senso Tipo 110 115 euro No Non ha senso Prendere poi prezzi No No Però in generale Ho capito Sì ma devi proprio Voler risparmiare 10 euro Sulla build Cioè nel senso Che cazzo di senso ha Piuttosto prendi i 5 Della generazione scorsa Ma i 3 Della generazione scorsa 115 euro No Sì concordo Però in generale La cosa buona È che oltre Al discorso dei prezzi Non sono Non sembrerebbero Non diciamo non sono Perché voi non lo sappiamo Non sembrerebbero Scorte limitate Quindi questi prezzi Sono su Una buona quantità Adesso La disponibilità C'è Non solo su Amazon Non solo sul sito Ufficiale Quando fanno il restock Bravo Anche su AMD Il 5.600 si è abbassato Di prezzo Quindi sembra che AMD Sui 5.000 Si è riuscito A fare uno step Dai siamo solo A 7 mesi dall'anno Sì infatti Si sono anche Iniziate a intervedere Abbastanza tranquillamente Noi quindi Teniamo tranquillamente Vuol dire che vai In giro su Intanto google il codice E lo puoi comprare E lo puoi comprare Non tranquillamente Vuol dire che devi Usare Giustrackit Devi usare il 3C Per trovarlo Quando devi usare Giustrackit Vuol dire che non si trova No infatti Anche il 5.900 Anche il 5.900 Anche se Non ha ancora prezzi In linea Più o meno Con l'MSRP Perché su Amazon Lo trovate ad esempio Però sta 40-50 euro sopra Su altri siti Lo trovate A qualcosina di meno Quindi già più in linea Con l'MSRP Si possono recuperare Invece Nei mesi scorsi Erano proprio Desapparecidos Non si trovava Manco a morire Un Ryzen 9 Quindi questa è un'ottima notizia Si davvero Finalmente Siamo riusciti Ad avere una buona notizia Per questo settore Dopo mesi Veramente brutti Almeno i processori Stanno migliorando Ed ovvio che Un processore Ragazzi Ha molto Molto meno complessità Rispetto a una scheda video Perché il processore È la GPU Praticamente Nella scheda video C'è la GPU E altre Una bomba Una bill of material Che è lunga Da qua Fino a Non so dove Ma noi lo diciamo Il video esce tra due giorni I processori non ci sono più No però Al direi questo Il processore è molto più semplice Della scheda video Quindi ci sta Sti rumor Del PCXper 5.0 Secondo te Ti rendono triste No Li dobbiamo già fermare Con l'acquisto di PCIe 4 Non lo so Non lo so Secondo me no Perché Alder Lake È quasi sicuro Che avrà il 5.0 E uscirà a fine anno E uscirà a fine anno Mentre i nuovi Ryzen I 5000 6000 6000 Non è ancora detto Anzi sembra Non l'abbiano Tutti e due monteranno Le DDR5 Esatto Quello sicuro Non è detto Che verranno montati Il PCI Express 5.0 Per lo meno Lato AMD Perché i rumor Di questi giorni Proprio Hanno già liccato Qualche specifica Per la M5 Che sarà Il futuro Socket Su cui verranno implementate Tutte le varie CPU Di prossima generazione AMD Quindi si tolgono Il discorso dei pin Si passa all'LGA Eccetera 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 E tra le varie feature Che sono venute fuori Pare che ci sia L'adozione ancora Del 4.0 Perché ci sono i Rocket Da comprare Che sono sempre In questo momento Secondo me I migliori Assolutamente Tra l'altro L'altro hanno fatto Anche quelli nuovi La serie nuova Infatti Rocket Plus Se non mi ricordo male Non so come si chiama I subrent in generale Sono ottimi Sì Il punto è che hanno Un costo È fine maggio Il momento in cui Stiamo registrando E magari Te li presentano A ottobre Perché escono Cioè non è che escono A dicembre Te li presentano A ottobre E tu vai a spendere 200 euro Per un prodotto Che fra 4 mesi È già Outperformato Da uno che va Quasi il doppio Io starei schiscio A questo periodo Gli SSD Non sono come le schede video Ragazzi Anche perché Kia è stato un fuoco di paglia E comunque Non va a toccare Gli SSD e VMI Perché appunto C'è bisogno Di grosso storage Non di velocità A meno che non Ne avrete bisogno State sul vago E vedete come si 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 Per ora si Io per quello che Penso adesso Poi vedi Prendevano tutti In sconto Spariti In quel caso lì Comprateli subito Però aprate quello Cioè in generale Vedo che Mentre per il Gen 4 Quando sono usciti Erano un pochettino Immaturi Però aveva senso Questo Gen 5 Secondo me Sono ancora più immaturi Secondo me invece Adesso siamo vicini A un grosso boost Prestazionale Si però Deve avere anche senso Di restorage si sentirà parecchio Sono curioso Sono curioso di vedere Anche perché Quando devi spendere 150-200 euro Cioè è una roba Che ti durerà 4-5 anni Eh sì Cioè magari Alla fine adesso Tu l'SSD in gaming Non ti dà un cazzolo Per cui è inutile Che lo compri adesso Tanto male che aspetti Il D-Restorage E vedi come si sa La roba la cosa Infatti E ti fai con l'SSD vecchio Quello che è A meno che ti stai Rifacendo la build nuova Però anche lì Ti fa bene l'SSD Che hai giù su da 5 anni Tanto non mi da muore Infatti Per i case andiamo veloci Perché la disponibilità c'è Quindi Niente da segnalare Si trovano Si riescono a prendere Come al solito Vi consegniamo i Metallic Gear Per la fascia bassa Per risparmiare Sui 50-70 euro Non andate su marcacce Cinese Tutto Quando c'è C'è roba migliore Che riuscite a prendere Mentre Per le RAM Si stanno alzando Ancora i prezzi Però Niente di trascendentale Si stanno alzando i prezzi E qui il discorso È completamente diverso Dal PCI Express Perché sappiamo Per sicuro Che tutte le prossime generazioni Adotteranno le DDR5 Però costeranno una manata E non sappiamo Con questo shortage Visto che c'è Uno shortage di memoria Comunque Ci saranno Quindi io qua ragazzi Non dico nulla Perché qua è diverso Dall'SSD Qui è molto situazionale Molto molto situazionale Io non aspetterei Le DDR5 Perché usciranno Questi saranno 400-500 euro Insicuro Fisso La più economica Costerà 3,50 Quindi è inutile Che stiamo qua Per me Quando sono uscite Le DDR4 Perché c'erano le Vengeance Che costavano Le RAM Lo sappiamo Hanno un tempo Un decorso Dall'uscita Quando prendono Di almeno un anno Abbastanza lungo Escono Ok Fine anno Barre Iniziano prossimo Con MD Ma poi Secondo me Saranno il 23 Che inizieranno A prendere piede Con modelli più economici E così via Però le prime Costeranno una fraccata Quindi lasciate perdere Ma passiamo Alla GPU Punto dolente Allora Vale ancora Moltissimo Il discorso Perché abbiamo fatto Un bel discorso Nell'ultimo video Nell'aggiornamento Di aprile Su tutto quello Che riguarda Il mercato Il mercato delle GPU Quindi in primis Potete andare A recuperare Il video Perché tanti Dei concetti Valgono ancora oggi Purtroppo Già struck it Sono uscite alcune 3080 A prezzo Umano Decente Decente Che decente Ragazzi È un modo di dire Ovviamente Però Qualcosa si è mosso Si è mosso qualcosa Rispetto al mese scorso I prezzi Come abbiamo detto Il mese scorso Non sono aumentati tanto Ma perché Come ho detto Si è raggiunto il limite Il cap Insuperabile Perché chi aveva 1500 euro Per una 3070 E voleva spenderli Per comprarla L'ha già presa Tendenzialmente Sì Non c'è nessuno Che vuole prenderla Aspettato 8 mesi Tiro fuori 1500 No Quelli che avevano Proprio la smania Di prenderla Ti avevano la smania Se le prese in lockdown Chiusi in casa Non se la compra adesso Che riaprono le gabbie Il crollo di Tyrion E le LHR Secondo me Ci andrà a restituire Quindi le light hash rate Ci andrà a restituire Una parte di mercato Quindi la fetta Che va al mining Un po' E quello è Il grande La grande novità Di questo mese Abbiamo già parlato Delle LHR Quindi abbiamo fatto Un video dedicato Per quello E forse Appunto Conseguente A questo calo Incredibile Che c'è stato Negli ultimi giorni Di Ethereum Può essere Che anche Il discorso del mining Venga un po' meno Quindi appunto La disponibilità Per noi giocatori Aumenti Può essere Senza contare Che comunque A luglio Come abbiamo detto Nel video dedicato Su cos'è il mining Gli interricchi E andate a voler vedere Se ve lo siete perso Abbiamo detto Che a luglio Ci sarà un grosso cut Delle capacità di guadagno Su Ethereum Quindi ci sono Ci sono queste tre cose La LHR Questo calo Importante Perché è stato Un calo Di quasi Il 40% Ragazzi Non parliamo di un calo Di 5% In due giorni In tre giorni Quindi è un calo gigantesco E comunque Che fa sperare Che quella parte Del problema Si vada a limitare Oltretutto Pensiamo A meno Penso io Che questo Secondo lancio Di Ampere NVIDIA L'abbia preparato Nel momento in cui C'è un nuovo C'è una nuova SKU Mi sembra strano Che NVIDIA Cioè I lanci Si preparano prima Cioè Non si fanno Il giorno stesso Le console Hanno iniziato a preparare A assemblare Mesi prima Quindi è probabile Che secondo me Già da fine marzo O aprile Quando si è rumoreggiato Questo LHR NVIDIA Stasse già iniziando A producere Per fare un secondo lancio Sarebbe Prendervi per il culo A dirvi Disponibile Però Vediamo Un po' più ricco E ricco non è un parolone Un po' più presente A giugno Quando usciranno I 380 Come secondo tutti Anche perché Vabbè Queste LHR in particolare Dovrebbero Secondo le informazioni Che sono girate In giro per il web Cominciare ad essere Spedite da adesso Da fine di questo mese Quindi La vera disponibilità La vedremo Solo nelle prossime settimane Concretamente Quindi ragazzi Il punto è Di questo video E che appunto La novità dei prodotti Che vi avevamo detto Però dovete stare sul pezzo Perché ci sono 20 giorni importanti Qua E se riuscite a fare Cioè dove ci potrebbero essere Sconti col prim day E altro In un periodo pre-estivo E poi L'uscita di queste schede video Nuove LHR di questa prima batch Secondo me Se non beccate adesso A settembre Perché secondo me Si invidia Ora che si riprende Il lancio Sarà per Per settembre Ora Cioè ci sarà proprio Un mese e mezzo Di morte Apparente Estiva E dopo Queste grosse uscite Sì secondo me Quindi dovete stare Parecchio sul pezzo Nei prossimi 20-30 giorni Il mese prossimo Tra le altre cose Inizio del mese prossimo Sarà anche Saranno protagoniste Due incognite nuove A quanto si dice online Ci sono almeno Una barra due schede Da entrambe le fazioni Che dovrebbero uscire Senza parlare ragazzi Che Sony ha aggiornato La pagina Steam Con 15 giochi C'è le tre L'evento E si parla Di The Last of Us Due su PC Cioè Potrebbero esserci cose Che fanno Boost All Esatto Aumentano un pochettino All Esatto Che è un po' calato Alla fine Nelle ultime settimane Nelle ultime mese Grazie Vorrei anche vedere Quindi ragazzi Queste sono le novità Per farsi un piccio maggio Fateci qua delle domande Se avete Qualsiasi curiosità E altro Da cui possiamo Possiamo rispondervi E alla prossima ragazzi Grazie a tutti Ciao an Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.